Il 6 marzo del 2009 cadevano sotto una pioggia di proiettili i nipoti dei vecchi boss della camorra napoletana, Raffaele Cutolo e Antonio Bardellino. Antonio Salzillo e Clemente Prisco si trovavano in auto a Cancello Arnone nel Casertano quando i sicari del clan dei Casalesi li assassinarono per riaffermare la forza dell'organizzazione di Francesco Schiavone, detto Sandokan, contro i vecchi rivali della malavita partenopea. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, quel commando che uccise Salzillo e Prisco fu organizzato dal figlio di Sandokan Schiavone, Nicola. Per questo motivo l'erede del boss è destinatario insieme ad altri sette pregiudicati del clan dei Casalesi di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti ritengono che Antonio Salzillo, principale obiettivo del duplice omicidio, sia stato punito per riaffermare la leadership del gruppo Schiavone nelle zone assoggettate al proprio controllo, ma soprattutto per aver disprezzato l'uomo simbolo dei Casalesi Vincenti, Francesco Schiavone, detto Sandokan. Così si spiega la presenza del figlio maggiore di quest'ultimo, tra gli organizzatori dell'agguato. Antonio Salzillo, nipote dell'ex capo dei Casalesi, Antonio Bardellino, assassinato in Brasile nel maggio dell'88, era tornato a vivere nel Casertano dopo anni di esilio e aveva avviato un'attività commerciale, vendendo autovetture usate ma senza l'autorizzazione del clan.